Chiamo Alessandro Spampinato, sono Guidoni Pietra, Flora Caffi Avogadri, Michelle Paoli, sono Marco, sono Patrizia Frosi, sono Cristina, eravamo ad un punto nostro aziendale dove volevamo fare un salto di qualità, guardando comunque i lavori del stile libero ho detto fa il caso nostro. La cosa che ci è sempre piaciuto è la sinergia e oltre alla sinergia è anche la capacità di capire le nostre esigenze. Una vera e propria spalla, abbiamo costruito nel tempo un forte rapporto di collaborazione, abbiamo imparato a capirci, a mettere sul tavolo le competenze di ognuno allo scopo proprio di realizzare il miglior prodotto possibile. Per me è voluto dire passare da una condizione più artigianale a una condizione invece più elaborata e quindi un artigianato sì ma di qualità maggiore. Sapevo di poter contare su comunque un team sicuramente all'avanguardia. Un team fantastico, siete molto professionali per il vostro settore. Ti mettono in condizione di capire che lavoro fai, ma soprattutto come proporti verso la clientela, cosa dire. Nonostante la continua evoluzione, Stile Libero riesce a interpretare le nostre esigenze e rappresentandoci al meglio. La professionalità del lavoro di voi, è un lavoro studiato molto bene, con delle idee per me nuove, si vede bene proprio l'ambiente dove noi lavoriamo. Un affiancamento costante nel realizzare le idee che comunque avevamo in mente. Poter esprimere quello che erano i miei pensieri e dare forma a quello che poteva essere l'immagine che volevo dare. Avere un rapporto umano che comunque oggi è difficile trovare, nel senso che magari le aziende sono più grosse e quindi non hai un rapporto diretto con chi le gestisce. Il rapporto che si è creato, il rapporto di fiducia e di seguire con noi quello che è il mercato e seguendo il mercato riuscire a interpretare esattamente le nostre esigenze. Siamo sempre riusciti a scambiarci delle opinioni che fossero costruttive e trovassero sempre poi una soluzione ad eventuali problemi o difficoltà che potevamo incontrare sul percorso e alla fine siamo sempre stati molto soddisfatti del risultato. Si può guardare negli occhi e capire quali sono i bisogni e come risolvere i problemi. Ci devono essere dall'altra parte dei grandi ascoltatori e soprattutto ci deve essere quella sensibilità per comprendere che non tutte le persone sono uguali. Questo fa un team più o meno all'avanguardia. E devo dire che i lavori di presentazione sia sui social, sia sui mezzi, sia aziendali sono di un ottimo livello e quindi ci dà soddisfazione vederli. Ha permesso di valorizzare sicuramente il brand. L'apporto in un'azienda come questa ci stimola per cercare sempre di stare a passo con i tempi e creare qualcosa di nuovo. Ti permette di arrivare a far capire al cliente il valore giunto che la propria azienda, tipo la mia, può avere rispetto a altri. Non è apprezzato solo da noi ma anche abbiamo riconoscimenti dall'esterno sulla bontà di tutto quello che stiamo facendo. Fa esaltare, amare gli aspetti positivi e farli emergere e comunicarli. Il fatto di avere un'agenzia alle spalle che ci supporta e ci aiuta ogni qualvolta decidiamo di modificare leggermente la comunicazione e il marketing ci dà una sicurezza. Avere sicurezza di avere un professionista che ti segue in tutto per tutto, che se hai bisogno per quanto riguarda qualsiasi cosa a livello di immagine e marketing ci pensa lui, ci pensa lui, sei tranquillo, vedi il risultato. Avere qualcuno di fianco che riesce a interpretare i tuoi bisogni e le tue necessità è il massimo per un'azienda. Loro lavorano in totale autonomia. Grazie a loro abbiamo la possibilità di tenere sempre un'immagine fresca dell'azienda. Può dire che abbiamo migliorato la comunicazione. L'arrivo a disco più efficace è stata quella di avere comunque un'immagine decisamente bella. Ha significato crescere assieme in questo settore che è in continua espansione e evoluzione. Ci permette di avere sempre dei prodotti che rispecchino ciò che siamo in quel preciso momento. È una cosa che è in crescita e sicuramente Stile Libero mi accompagnerà. Grazie.